aspetta nuovo o sullo stesso ok lo faccio ma che dobbiamo fare veramente per la boss ma lo faccio dopo che è normale no no manchia con quali armi vabbè tanto non abbiamo perso tutti questi secondi sì sì il carrello sì lo devo andare sì 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 ok ho capito ok 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 sì è così che funziona poi no aspetta non ho capito ok no ma non ci stiamo più giocando no ma non ci stiamo più giocando ok ahia ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua è l'ultima doccia? Ma che devo fare? Ah, sì, sì. Minchia, l'ho lisciata. Minchia, l'ho rilisciata. L'ho rilisciata. L'ho ripresa. Sì, minchia. E' morto. Ma io lo lascio... 30.000, minchia, che merda. Ma sai che ti dico? Io lo lascerei così la run. Ah, sì? Cioè, tanto che fa. Sì. Tanto mo' ci sarà un sacco di loot. Queste cassa di me. Cioè, guarda qua. Eh, minchia. Mui proprio da sparo. 9, sì. Vabbè, qua sarà. Intanto facciamo clip. No. No. No.